Due corse della Sulmona L'Aquila cambiano binario, finiscono sulla Pescara L'Aquila, la tratta della bretella ferroviaria che sarà inaugurata il prossimo 15 dicembre, ad annunciarlo al Comitato Pendolari e Stata Trenitalia. In via sperimentale, essendoci ancora dei lavori in corso per sistemare la viabilità di accesso alla stazione e per la realizzazione del sottopasso, d'intesa con l'assessorato ai trasporti, Trenitalia effettuerà una coppia di corse Pescara L'Aquila da lunedì a sabato, con partenza da Pescara alle 12.17 e ritorno dall'Aquila alle 19.27, spiegano da Trenitalia, facendo notare che non è possibile ampliare i volumi di esercizio in quanto l'organico grafico, composto dalle tracce rilasciate da RFI, supera già la capacità disponibile della rete, dunque una traccia aggiuntiva interferisce con le corse esistenti, andandone a aumentare i tempi di percorrenza. Una situazione che non scompone la programmazione ma che comunque, secondo i pendolari, crea qualche disagio anche per le sole due corse oggetto di modifica. Un disagio non tanto relativo allo spostamento delle corse, ma per il fatto che i treni della Pescara L'Aquila non osservano tutte le fermate. Inoltre con i capolini a Santa Rufina ci sarebbero problemi per raggiungere la stazione ferroviaria di Sulmona. Trenitalia ha inoltre fatto sapere che nel 2025 è prevista la chiusura quadrimestrale della tratta Pescara-Sulmona per i lavori relativi al raddoppio del binario, quindi la circolazione sarà interdetta.